vai vai caccare tanto abbiamo più ciacca tanto l'academy dura 9 minuti si va bene abbiamo 9 minuti allora proprio le farò vedere i backstage si farà i backstage voi mai nota la florentina chi se ne chi era il toyota ha scritto grosso pure vai buono se ne fa un altro questa volta li metto da qui buono vai questa volta da qua uguale? si vai home intanto i primi 3 ce li abbiamo potrebbe funzionare che vuoi? no aspetta ora un altro si vai ora let me think aspetta let me think fanno un'altra un'altra sempre da qui? certo ma si buona? c'è il coso che si vede no se dimmi duro vai vabbè vabbè ciao buone ora 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 ne fai qualcuna più o meno sei in brugale però questa volta io te la faccio da orizzontale e ti seguo così questa volta più o meno tanto poi faccio specchiamenti magie vai vai no questa è cosa c'è 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 vabbè è un video unico se non esiste all'editing vai ti aspetta a tirare la cazzo che cazzo cazzo se vuoi camminare dietro posso mi amore non è vero allora via che ti fail vai 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 qualcuno mentre vieni ah no aspetta qualcuno mentre vieni da qua perchè di la c'è il sole incontroluce vai vieni non l'avevo calcolato decidi vengo da qui è proprio cazzo perché c'è una prospettiva centrale stile shining di kubrick c'è una prospettiva centrale da qua certo c'è i cessi però chi se ne frega come dai, bache? stavo a più dietro hai partito i borsi mi chiamo che bache e c'è una razza mia si è vero again un'altra vai vabbè stavolta sempre uguale sempre uguale stessa cosa stessa cosa sempre da lì Stefano uguale no che mi inquadra piedi buona vai questi passetti di tip-tap molto questi erano passetti tip-tap passano proprio lunghi per favore vai 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 ma lo senti? te fai lo stesso provo a rifarlo un pochino più lontano cioè io mi allontano un pochino di più è una cosa tipo così ma mi sta a quello di prima buona vai vabbè vabbè ciao stai sicuro a cavalicche risate la bellezza guarda c'è non è più la luce il sole sta ci sta fottendo vabbè vai 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 di nuovo mi sa che non sei visto il bugger sono lì vai vai parli fammi un face palm per favore un face palm per favore un face palm per favore vai 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 un ultimo poi si stacca vai un ultimo poi si stacca quest'ultimo poi si fa un altro dove si fa un altro tipo così tipo che è poi andato facciamo quest'ultimo qui vai 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 hai preso? si si poi se volete fare uno dove lui arriva così e tipo mi fa così e batte. Ti sei lì e tu mi fai così avvicinando al videocamera facendo il specchio. Aspetta, c'è il pallone in mezzo, mi metto un attimo qui. Vieni qui, guarda te, devi andare in là. Vai, si vabbè è bellissimo, è bellissimo. Però l'hai bagnato sul cazzo tua. Vai, se no non c'è lo spazio. Vai, vai, vai. Ora di nuovo però te lo faccio da basso dalle scarpe. Tanto più rifresi si fa meglio è. Come bagno acido? Vai, vieni. Sì, la stessa cosa però dopo aver battuto ti puoi fare un minuto saltello e poi frena mettendo le gambe così. O senti stai zitto Stefano ne va di un mio voto. Abbiamo un minuto e 48. Ne va di un mio voto. Con quella psicotica della c***a. E questo pezzo verrà tagliato bene in fase di editing. Roberto è in fase di editing, questo lo tagli. C'è vento eh. Vai. Vai. Ma ce l'ha mai. Si spera. No, sono mezzo al terzo. Ah, sì. Vai. Bene Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Best tiro ever. Ah, sì. Best salto ever, questo. Questo è stato il mestito salto. Comunque prova per fermare un pochettino più lontano, tipo più o meno qui invece è qui, se no è troppo vicino. Vai, 45 secondi, vai. Stava, se l'ha frenata è più decisa, sai. Devi correre più veloce. È più lontano però. Vai, vai. Ottima pubblicità. Ottima pubblicità. Pubblicità perfetta. Allora. L'ho inquadrato, eh. Giorgi. Giorgi. Vai. Sto lo so fermo, eh. Scusami un attimo, eh. Scusami. Ma la cosa tipo che te arrivi e fai tipo così. No. Sto a farlo vedere. Lo posso fare io, se non fosse lui soggetto. Corso. Vai, muoversi. Se prendevi l'obiettivo eri morto, lo sapevi. Se prendevi l'obiettivo eri morto, lo sapevi. Vai. È un po' lunga. Eh. Quasi. Proprio più deciso sull'atterraggio. Proprio cattivoso. Non è più farsi. Ho capito. Eh, l'ha capito lui. Cioè, l'ha capito il mio babbo. Ciao. Vai. Vai, dai. Vai. No, questo è stato un tuffo, ma di tipo diverso. Sono veloce. Vai. Più veloce. È morto. È morto. Sei morto improvvisamente, Ragdoll. Non ha capito. Ti hanno mai shottato. Su, dai, su. Dai, che ce la puoi fare? È troppo l'uomo. Ma l'ultima, via. Ma l'arrivo qui? Il problema adesso. Scusa, ma l'atterraggio proprio... No. Un attimo. Cattivo proprio. Non posso atterraggio così, ce la parla qua su. Vai. Eh, va bene. Vai. Vai. È un freno un po' quell'anzo. Non è un freno. Seguilo. Allora si fa un po' avanti. Vai. I bei, i bei, i bei, i bei, i bei, i bei, i bei. I bei, 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 i bei. I bei, 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 i bei 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 i non ne faccio un ricordo lo sai che se me lo tengo a me backstage e potrei far vedere la prof questo lo potrei tenere a me backstage e farlo vedere alla prof lo sai tanto si sa che te con i backstage siamo messi bene vero pubblicità efficientissima te la prendi qui aspetta te dice a lui ok vai troppo presto la lancia dimmi a me la lancia ripresa sac perfetta vai la lancia va la lancia troppo presto la lancia io e qui c'è pronto ho capito vai vai è buono questo erano pronto si era buono era buono toccare con mano e freare ma non viene freando il pallone di che ho capito un po' c'è ogni parte del pallone va nel culo no faccio tanto basta le scarpe cioè il soggetto sulle scarpe non il pallone vai vai è troppo lunga eh no troppo lunga vai faccio un po' più comunque va bene comunque se ne vuoi fare un altro poi ovviamente ce l'abbiamo vai ho preso metà delle tue gambe quando si è fermato lì stavo più qua io mi trovo qui col telefono fuori dalla tasca perché dà fastidio vai non puoi semplicemente non puoi tira l'arco eh tira l'arco tu c'hai tutto il tempo vai 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 bene bene great great posso fare il contrario in là qua perché così c'è la luce prova vai vai perfetto provi con lo guardo eh vedete rifacciamolo di nuovo giusto per vabbè rifacciamo di nuovo giusto per deve essere di busto per essere di te o non mi fa più a casa no in realtà si e no ma va bene cioè come viene viene vai ho sentito il pelo sulla mia testa vediamo prese eh eh hai fatto tattà però boh ho fatto tattà eh sono liscio sotto vai l'ultimo dai se viene bene l'ultimo vai perfetto oh eh l'ha capito alla fine l'ha capito alla fine l'ho voluto ma da tass da tass altissimo ecco vai l'ultimo vai è troppo lungo eh comodissimo però cazzo comodissimo questo screenshot lo sai se mi aspetta ora se mi fa quella lì tipo ora questa ce l'abbiamo se mi fa quella lì che sarà fatto frontale però questa volta gli ripendo dal basso quella così sarà fatto questa volta tipo batti se ci riesci freni ah se ci riesci vai va bene ha funzionato vai quanto temo per questa videocamera giù via un po' più alto cosa aspetta no è uguale Roberto vado di zoom vai vai se che cazzo ma sono fondo stefano per favore prova un po' di pietà si hai sentito l'opzione pietà usala no no guarda c'è la velocità è la pressione eh lo spazio tempo vai un'altra volta il palio non si immaginare quanti bagni dopo che sto ma va bene vai ti fa un'ultima fase stacca stai zitto so il mio lavoro so fare il mio lavoro stai zitto 40 secondi vai vai non si è vista la palla non si è vista la palla non si è vista la palla è basso è basso è basso è basso no è basso vai no è basso Stefano please please vai collabora vai è basso cioè sono preso eh si come hai messo così la presa sui piedi ti hai vista la palla però era un po' pendente in qua lui cioè nel senso non era diritto ma era pendente in qua è che mi fa la sega oh l'ultimo l'ultimo diritto svi e fine è come se dovessi tirarmela sulle palle perché ti ho fatto incazzare vai ultima ultima vai aspettavo da più indietro ancora ancora vai da qui preferirei non farmi stuprare questa prima poi dopo ho finito sto lavoro poi anche però vai c'è devo lavorare dai dai non ridere più indietro vai non sono pronto io pronti trovando alto fuggi se la lanciava bene poteva essere quella buona infatti l'hai presa male io la lancio alta perchè così vai rifai con la faccia scusa vai su ancora con te vai vai ok l'ho presa ok 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 fatti scena faccia così lo sai aver ammestaggio più lungo dello spot vero? deve migliorare la recessione però eh ma deve solo... anche te ti raggiare per bene per tutti i cristi fermo come senti? oh non stavo bene ripetendo che cazzo vai scena è lo scena è lo scena è lo scena è lo scena ma al lato? ma cosa è lato? stefano qui preciso andrea? stefano vai vai giuro che la palla non si vede ci sono problemi con la palla non si vede mica basso basso ma facciamo quasi la palla aspetta mi allontano io facciamo quasi la palla mi allontano io ancora di più te fermati nello stesso punto eh che cazzo vai 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 stefano masticamento? no lo vedo lo vedo qui verso le pozze si vai 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 sarà perfetto fia la palla vai via vai l'ultima vai troppo 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 Stavo per morire, lo sai? Ho preso un'altra brucia Ah, vai! Un po' di più, un po' più alta, un po' più alta Un po' più alta, vabbè Sapre, avevano 4 minuti e 9 dopo questo fine Ecco Vai! Facciamo? Si, si Si o no? Si Beh Deci ti ho messo Ah! Vai! Stiamo muovendo i piedi? Mh mh Stegli ci guardano alla rete Vai! Sai cosa? Spostati Da qualche parte Boh, non si rifà un'altra volta Che vero Stupro and coming Stupro and coming Vero, Vali, stupro and coming Vero, Vali, stupro and coming Vericordi Vericordi Vericordi, stupro and coming Vero? No, tipo, che cazzo stanno facendo? Ecco, vero? No Tirati sulla manica lì, per favore Perchè cazzo ti cambia? Perchè ti si vedeva Ah, vabbè, faccio musica Vai Dove Vai Puoi essere guardata in piani A ricchefì Grazie